Ciao Giorgia, benvenuta anche questa settimana. Ti presento il secondo dei nostri trattamenti leader nel settore dell'estetica, l'idradermi. L'idradermi è la star dei nostri trattamenti, associa una pulizia profonda della pelle ed è un trattamento su misura per ogni esigenza. È un trattamento unico che regala risultati spettacolari, rivitalizza i tessuti in profondità e illumina il viso. Nella versione lift creiamo un effetto lifting, stimolando i muscoli, ridando così tonicità a collo e viso. Troviamo poi un trattamento di ultima generazione. Botte neve ha gli enzimi acidi di frutta per tutti i tipi di pelle che necessitano di trovare freschezza, luminosità e una nuova grana di pelle. Abbiamo anche l'iftosome che è un trattamento viso che la soda ringiovanisce e lifta la pelle, sfruttando tutti i benefici delle vitamine incapsulate in un trattamento manuale, regalando così la garanzia di un risultato sorprendente. Anche per questa settimana è tutto, ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento. Ciao!